Salve a tutti e allora andiamo alla conoscenza di due profili di albera a camme che sono montate su una Peugeot 106 Rally e in questo proposito mi è stato chiesto, visto che la macchina ha avuto un problema poi a livello di sia di temperatura che non rendeva bene, quando è stato cambiato poi il secondo albera a camme leggermente più sportivo, quindi questo qua che risulta proprio ancora nuovo con pochi giri ce n'è senza girato poco, già si vedono dalla parte di appoggio, si vede molto che è più nuovo dell'altro nella colorazione stessa e anche dove va a lavorare la parte del bilanciere e allora che cosa andiamo a fare? A mio parere così a guardarli sembrano quasi uguali come profilo però non possiamo mai stabilire un profilo del gene specialmente sul Peugeot se non andiamo a conoscere bene il tipo di lavorazione che va a fare sulla testata, anche perché abbiamo la valvola opposta allo scarico quindi con un sistema radiale e dobbiamo andare a conoscere che io con l'altrezzo che andiamo a conoscere per adesso la lettura andiamo soltanto a leggere il profilo poi per andare a individuare bene il calettamento dobbiamo avere con il rapporto bilanciere che andiamo a fare andiamo a montare il bilanciere sopra la testata con un albera a camme dopo che abbiamo acquisito i dati e andiamo a vedere sul rapporto della testata di quanto è il calettamento preciso così io alla macchina vado a configurare la differenza dei gradi che per adesso ci mancano nel profilo perché se vedete sul profilo siano quasi tutte e due sulla stessa linea quindi c'è poca differenza, saranno 28 gradi di differenza quindi dobbiamo andare a sommare quel rapporto bilanciere che la valvola si trova in questo punto e il bilanciere va a lavorare nel senso opposto quindi in questo caso dobbiamo andare a trovare l'angolazione mancante dei due guide valvola proprio per avere la giusta gradazione delle valvole in questo caso abbiamo l'aspirazione e lo scarico in questo caso e quindi dobbiamo andare a trovare l'angolo mancante anche se lo potremmo rilevare ma viene un po' difficile se non abbiamo anche il rapporto bilanciere per questo vi dico vado a fare una controprova sopra l'albera a camme quindi intanto andiamo a fare la lettura degli albera a camme per capire un po' se ci sono differenze effettivamente perché uno rendeva meglio dell'altro e poi nello stesso tempo visto che la testata è normale andiamo ad avere un quadro di flussaggio proprio per rilevare in base al rapporto di compressione poi che si va a rimanere con la testata originale quale albera a camme un po' andare a scegliere e di fatto in questo caso andiamo ad avere sia le due valvole nuove che dobbiamo andare a montare ma qualche prova la andiamo a fare con quelle che c'erano montate proprio per vedere se modificando di poco perché non possiamo modificare di tanto le valvole vedere se andiamo ad avere dei miglioramenti su quelle vecchie che possiamo modificare qualcosa e quindi lo riportiamo poi sulle valvole nuove e allora piazzata la testata montate sia due valvole l'albero bilanciere è fatto il sondaggio a zero per evitare giochi sulla valvola stessa andiamo a mettere il diagramma e vedere il calettamento sopra la valvola tra scarico e aspirazione per adesso anche se rapportato al metà andiamo a vedere di quanto è il calettamento delle due valvole quindi cosa andiamo a fare posizioniamoci sulla valvola dello scarico in questo modo e ce ne andiamo sulla massima alzata iniziamo a girare quindi cerchiamo di di arrivarci piano piano proprio sul punto di massima alzata proprio per evitare vedete qui l'alzata per adesso siamo 11,48 poi inizia a scendere per questo dico a volte il bocciolo è più prolungato prendiamoci una misura effettiva quindi andiamo piano piano ci soffermiamo nel punto più alto ok andiamo ad azzerare lo ziro che in questo caso vedete è spostato di un centesimo cioè di un grado ma perché sul bocciolo se andiamo a girare ancora un altro po' vedete si va a posizionare sullo ziro proprio perché il bocciolo è più prolungato e poi inizia di nuovo a riscendere quindi dobbiamo fare la media e posizionarsi sullo ziro dopo aver fatto questo che siamo posizionati sulla sulle massima alzata dello scarico andiamo a passare il comparatore dello scarico sull'aspirazione e vediamo di quanto è il calettamento così da andare ad aggiornare questa tabella che io momentaneamente ho disegnato e allora qui siamo posizionati sull'aspirazione quindi andiamo a girare di nuovo nel senso di rotazione quindi andiamo a passare il punto di incrocio e vediamo l'aspirazione dove va ad aprire quindi arriviamo alla massima alzata vediamo dove si va a fermare ok siamo qui se andiamo a contare ora i gradi vedete siamo fermi dopo l'ottanta quindi a settantuno dobbiamo contare dal contrario dal punto morto che abbiamo segnato quindi sono dieci venti 109 gradi per avere l'alzata che questa qua è l'alzata reale ma è rapportata con il gioco valvo a zero proprio per avere il riscontro preciso dell'alzata del bocciolo così ora che cosa andiamo a fare andiamo a fare la lettura dell'albero a camme e andiamo a conoscere effettivamente se le misure combaciano andando a inserire i gradi mancanti che andiamo ad avere poi facendo la sottrazione del 109 gradi che andiamo per adesso quindi 109 gradi per adesso è l'albero a camme totale perché poi che cosa succede noi con i giri dell'albero motore lo andiamo a avere 109 gradi da questa parte e 109 gradi dal lato dello scarico quindi diventerà poi 218 gradi totale per questo dico io questo l'abbiamo diretto sull'albero a camme quindi una volta che lo andiamo a montare con il motore lo andiamo a raddoppiare andiamo a trovare 109 gradi dal punto di massa dal punto 0 all'aspirazione e 0 prima del punto morto superiore lo abbiamo 109 gradi sullo scarico andiamo a fare le letture e vediamo cosa esce fuori allora ecco per fare l'albero dell'albero a camme quello che abbiamo controllato tra scarico e aspirazione passiamo facendo l'acquisizione della vettura e ora andiamo a vedere un po' il calettamento che ci va a dare alla macchina di lettura finita la vettura andiamo a vedere questi sono i boccioli di lettura con il profilo posizionato direttamente sul bocciolo dell'albero a camme ora andiamo a inserire il rapporto bilanciere e quel famoso incrocio che abbiamo rilevato e vediamo come sono le fasature degli albero a camme e allora finito di provare la testata andiamo a vedere ora i dati di lettura e facciamo un confronto tra aspirazione e scarico e poi vediamo pure i dati delle due gamme quindi andiamo a metterle a confronto per vedere quale potrebbe funzionare meglio e allora eccoci qua con la prova dell'aspirazione e andiamo a vedere poi il confronto con il senso inverso proprio per andare a vedere che abbiamo un punto di ostacolo che si trova qui a 7 mm e poi nelle basse aberture come nella portata massima volendo si potrebbe pure migliorare questo grafico che abbiamo normale proprio perché abbiamo un'ostruzione nel passaggio guida quindi indipendentemente dalla sede valvola o dal passaggio del condotto quindi andare a lavorare ancora sul condotto va a perdere poi di velocità per una testata normale se andiamo a confrontare lo scarico questo è l'andamento dello scarico nel senso giusto e ho fatto pure lo proprio nel senso contrario proprio per vedere che abbiamo sempre un confronto qui a 7 mm dovuto proprio all'ostacolo guida valvola ma a livello di passaggio di condotti come sezione ci siamo quindi è da migliorare volendo lavorare una testata di igiene andare a migliorare la posizione del guida valvola quindi come condotti c'è soltanto di andarle soltanto a definire per vedere un confronto in portata in GFM su questa testata andiamo a vedere il rosso lo scarico con l'andamento dell'aspirazione in blu vediamo che abbiamo i due confronti in GFM con le letture e il confronto dello scarico e su questo tipo di andamento della testata andiamo poi a vedere una portata degli alberi a cam quindi come dicevo avevo un problema che un alberi a cam andava a funzionare meglio dell'altro proprio perché se andiamo a confrontare i due profili quindi questo è il primo profilo più basso con una certa alzata che arriverà ad 11.43 quello sia l'aspirazione di discarico e andando a mettere la sovrapposizione della seconda cam come vi ho detto ho fatto pure la seconda vedete la seconda ha un andamento dell'aspirazione più alta intanto come profilo e lo scarico è leggermente anche più ampio quindi possiamo avere più potenza ma andando a fare una prova poi sul motore dobbiamo andare dietro un po' con il rapporto di compressione e per questo io andavo a dire di inserendo i dati sono un po' confusi perché sono con i doppi profili però se andiamo a togliere almeno un profilo sarebbe quello più basso in questo più alto andiamo a trovare come ripeto un incrocio più ampio sia nel appunto morto superiore come incrocio di valvola e poi a una durata più lunga leggermente con l'alzata superiore quindi per funzionare con questo al di là che poi dobbiamo metterlo in fase bene abbiamo un rapporto di compressione leggermente più alto invece lasciando il primo profilo con questo tipo di rapporto compressione che sarebbe normale con questo tipo di alzata bene o male va a funzionare meglio dell'altro profilo quindi a mio parere questo è poi la resa finale che andiamo ad avere sulla testata quindi a parità di rapporto di compressione volendo dobbiamo scegliere questo per avere una coppia leggermente più bassa e un motore più pronto d'accordo ci andiamo ad aggiornare poi nel prossimo video con ulteriore chiaramente su altri lavori con ulteriore